Ci ha confermato quanto la grandissima... Gilberto Lonardi, professore emerito dell'Università di Verona e il vincitore del premio La Ginestra 2015, ha segnato a personalità della cultura, del teatro e dello spettacolo che si sono distinte nello studio delle opere di Giacomo Leopardi. Il premio, giunto alla sua nona edizione, si è svolto nella consueta sede di Villa della Ginestra a Torre del Greco, che ospitò il poeta tra il 1836 e il 1837. La manifestazione è organizzata da Rotary Club Torre del Greco Comuni Vesuviani, in collaborazione con la Fondazione Ville Vesuviane e l'Università Federico II e il Conservatorio di San Pietro a Maiella. Ascoltiamo il professor Lonardi e i nostri microfoni. Diciamo che qui, nell'ultima fase della sua vita, Leopardi cambia pelle molto più di quel che si creda, lasciando Recanati, negli ultimi sette anni circa, della sua esperienza, assorbe nuovi stimoli, nuove attenzioni. La Ginestra, in questo senso, è un luogo di verifica di quanto diventi ancora più complesso il mondo di pensiero, il sentire di Leopardi, il manifestarsi attraverso il linguaggio poetico. Circa il premio, intervenuti Matteo Palumbo, coordinatore e i membri del Comitato Scientifico, Fabiana Cacciapoti e Paola Villani. Tutto questo ci ha permesso di mettere assieme veramente un ventaglio di autorità che non possono che essere di grande onore per il premio, e di dare una dignità e una forza davvero del tutto originale a questo premio. Uno dei premiati è stato proprio Mario Martone, dopo la sua preparazione teatrale delle operette morali, prima del film, quindi alcuni anni fa. Questo è un po' un occhio che si ha, si ha un occhio particolare per tutti coloro che sono impegnati a livello serio, profondo, ma con diverse prospettive sull'opera di Giacomo Leopardi. Leopardi non solo riesce a parlare a noi, ma ha visto molto prima di noi cose che noi continuiamo a non vedere ancora. Allora la possibilità di leggerlo e di leggerlo appunto pianamente fuori dalle accademie è il modo migliore per farlo entrare nelle nostre biblioteche, nelle nostre istanze e nel nostro cuore. Presente il Presidente del Centro Nazionale Studi Leopardiani, Fabio Corbatta. E all'ipotesi una serie di collaborazioni tra alcune realtà napoletane che sono importantissime nelle vicende degli studi leopardiani, come la Biblioteca Nazionale di Napoli, come le università, come questo stesso premio con il quale è ipotizzata una collaborazione per i prossimi anni dove è possibile insieme al premio vedere e sviluppare altre iniziative.